Un cognome cavallino Al maggiore generale a riposo, Buleyev, avevano preso a dolere i denti. Egli sciacquava la bocca con acquavite, con cognac, applicava al dente malato della gruma di tabacco, dell'oppio, della canfora, del petrolio, spalmava la guancia con iodio, negli vecchi aveva dell'ovatta imbevuta di spirito, ma tutto ciò o non giovava o gli provocava la nausea. Alla proposta di estirpare il dente malato, il generale aveva risposto con un rifiuto. Tutti i familiari, la moglie, i bambini, la servitù, perfino lo squattero Petka, perfino lo squattero Petka, proponevano ciascuno un suo rimedio. Tra l'altro anche l'intendente di Buleyev, Ivan Yevseich, venne da lui e gli consigliò di curarsi con gli scongiuri. «Qui nel nostro distretto, eccellenza», disse, «un dieci anni fa era in servizio l'impiegato del dazio, Jakov Vassilic. Nello scongiurare il mal di denti era di prima qualità. Soleva avvoltarsi verso la finestra, mormorare qualcosa, sputare ed era fatto. Una tal forza gli era stata data. E dov'è adesso? Dopo che l'hanno licenziato dal dazio, abita Saratov, dalla suocera. Ora non vive che sui denti. Se a qualcuno un dente si mette a far male, si va da lui e giova. Quelli del posto di Saratov li cura a casa propria e quelli che sono di altre città per telegrafo. Mandategli eccellenza un telegramma dicendo che è così e così. Al servo di Dio Alexi dolgono i denti. Prego guarire. E il denaro per la cura lo manderete per posta. Insulsaggini. Cia la taneria. Ma voi provate eccellenza. È molto amante della vodka. Non vive con la moglie, ma con una tedesca. Bestemmia, ma si può dire, è un signore miracoloso. Mandalo a Yosha, supplicò la generalessa. Tu, ecco, non credi negli scongiuri, ma io ho provato su me stessa. Anche se non credi, perché non mandare? Non ti seccheranno mica le braccia per questo? Beh, d'accordo, acconsenti Bouldejev. Qui non solo all'impiegato del Dazio, ma anche al diavolo manderesti un telegramma. Oh! Non ne posso più. Beh, dove abita il tuo impiegato del Dazio? Come scrivergli? Il generale sedette davanti alla tavola e prese in mano la penna. A Saratov ogni cane lo conosce, disse l'intendente. Vogliate scrivere, eccellenza. Città di Saratov, dunque. A sua nobiltà il signor Jakub Vassilic. Vassilic? Beh? Vassilic, Jakub Vassilic? È di cognome? Ecco, il cognome l'ho dimenticato. Vassilic? Vassilic, diavolo, com'è dunque il suo cognome? Poc'anzi, quando venivo in qua, me ne ricordavo. Permettete. Ivan Yevseic levò gli occhi al soffitto e mosse le labbra. Bouldejev e la generalessa aspettavano impazienti. Ebbene, pensa più svelto. Subito. Vassilic a Jakub Vassilic. Ho dimenticato. È anche un cognome così semplice. Cavallino. Si direbbe Jumentin. No, non Jumentin. Un momento. Stallonov, forse. No, nemmeno Stallonov. Ricordo che è un cognome Cavallino, ma quale mi è uscito di capo? Puledroff? Proprio no. Un momento. Jumentitzin. Jumentikov. Kobelioff. Kobelioff. Questo è già canino, e non Cavallino. Stallonicioff? No, nemmeno Stallonicioff. Cavallinin. Cavalcoff. Puledrin. È sempre un'altra cosa. Beh, allora, come potrò scrivergli? Pensaci. Subito. Cavalkin? Jumentkin? Timoniarcoff? Timoniarcoff? Domandò la generalessa. Proprio no. Bilancinkin? No, non è questo. Ho dimenticato. Allora, perché mai che il diavolo ti porti? Ti fai avanti con i tuoi consigli se hai dimenticato? Andò in collera il generale. Vattene fuori di qui. Ivan Iveseitz uscì lentamente, e il generale si afferrò la guancia e prese a girare per le stanze. Oh, padri miei! Si lamentava. Oh, mamma mia! Oh, vedo le stelle! L'intendente uscì in giardino e, levati gli occhi al cielo, cercò di rammentare il cognome dell'impiegato d'Aziario. Stalloncicoff? Stallonkowskicoff? Stallonienco? No, non è questo. Cavallinis? Cavallevich? Stallono? Stallonovic? Jumentjanski? Dopo un po' di attesa lo chiamarono dai signori. Te ne sei ricordato? Domandò il generale. Proprio no, eccellenza. Forse Korsierski? Cavallnikov? No. E nella casa si misero tutti a gara a inventar dei cognomi. Passarono in rassegna tutte le età, i sessi e le razze dei cavalli. Ricordarono la criniere, gli zoccoli, i finimenti. In casa, in giardino, nella stanza dei servia, in cucina, le persone andavano da un angolo all'altro e grattandosi la fronte cercavano il cognome. L'intendente veniva di continuo chiamato in casa. Mandryov? Gli domandarono. Zoccolin? Stallonikov? Proprio no, rispondeva Ivan Yevsis. Elevati in alto, gli occhi continuava a pensare ad alta voce. Destierenko? Destiercenko? Stallonieviec? Ziumentieniev? Babbo? Guidava dalla stanza dei bambini. Troikin? Brigadetkin? Tutta la casa di campagna fu sotto sopra. Il generale, impaziente e sfinito, promise di dare cinque rubli a chi avesse ricordato il vero cognome e a cercare Ivan Yevseich cominciarono a venire intere frotte. Baikov? Gli dicevano Trottalovski, Cavalizki. Ma giunse la sera e il cognome non era ancora stato trovato. E così andarono a dormire, senza aver mandato il telegramma. Il generale non dormì tutta la notte e andò sempre da un angolo all'altro, gemendo. Dopo le due del mattino uscì di casa e bussò alla finestra dell'intendente. Non è Kastronov? Domandò con voce di pianto. No, non è Kastronov, eccellenza, rispose Ivan Yevseich e sospirò come un colpevole. Ma forse non è un cognome cavallino, ma qualche altro. Parola d'onore, eccellenza, è cavallino. Questo anzi lo ricordo benissimo. Come sei smemorato, mio caro. Per me adesso quel cognome è più caro, mi sembra, d'ogni cosa al mondo. Sono sfinito. Al mattino il generale mandò nuovamente per il dottore. Due stragga, si risolse. Non ho più la forza di sopportare. Arrivò il dottore ed estrasse il dente malato. Il dolore si calmò immediatamente e il generale tornò tranquillo. Fatta l'opera sua e ricevuto quel che aspettava per il lavoro, il dottore salì sul suo calesse e andò a casa. Fuori del portone, in un campo, incontrò Ivan Yevseich. L'intendente stava sul ciglio della strada e, guardandosi riconcentrato sotto i piedi, pensava a qualcosa. A giudicar dalle rughe che gli solcavano la fronte e dall'espressione degli occhi, i suoi pensieri erano tesi, tormentosi. Isabellov, Correjonov, mormorava, Sogiolin, Kavansky. Ivan Yevseich, gli si rivolse il dottore. Non potrei, Colombello, comprare da voi un cinque stai d'avena? I nostri contadini mi vendono l'avena. Ma è cattiva assai. Ivan Yevseich guardò ottusamente il dottore, fece un certo qual bizzarro sorriso e, senza dire nemmeno una parola in risposta, battendo le mani, corse verso la casa padronale, con tanta rapidità, come se lo avesse inseguito un cane arrabbiato. Ho trovato, eccellenza, si mise a gridare gioiosamente con voce altera, piombando nello studio del generale. Ho trovato che Dio conservi in salute il dottore. Avenov, Avenov è il cognome dell'impiegato d'Aziario. Avenov, eccellenza, mandate un telegramma ad Avenov. Toh, disse il generale con disprezzo. E gli fece le corna sotto il viso. Non ho più bisogno del tuo cognome cavallino. Toh! Avenov, eccellenza, mandate un telegramma ad Avenov. Avenov, eccellenza, mandate un telegramma ad Avenov. Avenov, eccellenza, mandate un telegramma ad Avenov.